Un'azione congiunta delle procure di Torre Annunziate e Nociare Inferiore che ha portato al sequestro di quattro aziende specializzate nell'attività conserviera e della metallurgia pesante ritenute responsabili di inquinamento ambientale del fiume Sarno. I carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli hanno apposto i sigilli alle attività produttive ubicate nei comuni di Striano, Sant'Antonio Abate, Pagani e Scafati tra le province di Napoli e Salerno. Indagati i legali rappresentanti che dovranno rispondere a vario titolo di scarico abusivo di reflui industriali, abbandono di rifiuti pericolosi ed emissioni non autorizzate in atmosfera. Dalle indagini dei militari partenopei, in collaborazione con il personale dell'ARPAC, sarebbero emersi vari tipi di illeciti ambientali. In alcuni casi gli opifici scaricavano gli scarti della lavorazione o direttamente in fognatura o nei canali affluenti nel fiume Sarno. In una nota congiunta, i procuratori Centore e Fragliasso hanno sottolineato il lavoro sinergico messo in atto dai PM e dei due tribunali per contrastare l'immissione dei veleni nel fiume considerato tra i più inquinati d'Europa. Le procure di Nocera Inferiore e Torre Annunziata, cui si aggiunge anche quella di Avellino, hanno fatto sapere che l'azione di contrasto agli illeciti ambientali è tuttora in corso ed altri sviluppi potrebbero arrivare a breve dopo l'attività investigativa condotta dai carabinieri del gruppo tutela ambientale e del comando forestale. Grazie. Grazie.